hai trovato Alessandra il buco? eh eh ma davvero? si davvero allora aspetta che papà ho trovato l'ho trovato ma aspetta aspetta vanno segnati tutti dai tu ho capito che li trovi Alessandra tirati indietro tirati indietro fammi vedere spingiamo quando lo vedi uno mi ci metti il didino lo vedi? no lo vedi non stanno qua proviamo qua quest'altra parte vedi qualche eccola l'aria si mettimi il didino dove? dove? dove c'è il buco? dove? ecco 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 qua adesso togliti togliti che guarda bene mamma dove guarda eccolo qua levale ecco qua lo hai segnato vado a segnare ecco qua qui c'è il buco e qui qui ok aspetta vediamo giù eccolo un altro allora quello c'è qui ecco qua ecco qua adesso suelta 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 ci scegliamo un altro eccolo qua qui c'è un altro eccolo qua poi facciamo così cosa fai? la giusta e qui abbiamo toccato qui adesso vediamo mettiamo il pallone dentro eva papà eva vediamo esce ancora l'aria esce ancora più di prima buona di più questa buon altro buco adesso esce più di prima buoni buoni metti un altro buco aspetta no no ora provate la giusta sta tranquilla alessandro sta tranquillo alessandro sta tranquillo va va sistema tutto un altro buco no 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 ripariamo quello dov'era eccolo qua sembra sembra invece la situazione è completamente sotto controllo sembra la situazione invece è completamente sotto controllo adesso esce di meno esce di meno Alessandro che buona questo dove sta ma che bevi l'acqua del secchio beh guardate proviamo a riparare questo il buco questo esce ancora esce 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 ancora questo è il l'accelino 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 allora provo l'accelino prova ancora l'accelino così proviamo col col coltello il coltello non buco no 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 non buco Alessandro non buco so esattamente quello che faccio Alessandro so esattamente quello che faccio un po' di cera vediamo questo non perde più adesso abbiamo questo va bene? papà è bello papà è brutto ma che brutto papà è bello ti ho detto no papà è brutto brutto nooo aia qua dammi di nuovo il pallone proviamo questo questo qua guarda proviamo non perde più non perde più adesso ne proviamo un altro arrivati vediamo un po' le vedi le bollicine le salate da qualche parte aiutami a trovare le bollicine eh aiutami a trovarle eccole ecco leva la mano per il caldo proviamo la riesci più di prima la Alessandro no Alessandro che bevi l'acqua che è cascata vai su youtube vai eh ti vedono tutti i bambini ti vedono ti vedono? te vedono si come li vedono? te vedono te vedono come? col lipat col lipat eh qual è il lipat? ce l'hanno anche loro il lipat